Dal periodo degli Angali al periodo dei non Angali Oggi siamo qui a presentarvi la mecca e banda Prima di lasciarvi le domande di circostanza vorrei dire qualcosa a proposito Cosa mi sembra interessante e importante dire Tanto che come spesso a noi ci succede Cerchiamo sempre prima in casa di trovare quelle risorse Che possono essere funzionali e utili alla causa Se non le troviamo in casa, ho sempre detto che cerchiamo dietro l'angolo A volte, come in questo caso, ci dobbiamo sforzare a trovarle anche da lontano E devo essere sincero, questa volta siamo andati a prendere la mecca lontano Perché è una potenzialità per noi molto importante Quando l'abbiamo pensata, l'abbiamo pensata che sarebbe stata una potenzialità importante Poi nell'acquisirlo a titolo definitivo abbiamo pensato di avere in casa una potenzialità importante Perché potenzialità? Perché nonostante la sua giovane età Ha collezionato già diverse presenze nella nazionale maggiore della sua nazione Che è lo Zambia Oltre delle presenze in Europa League E come avete potuto già vederlo all'opera Le sue caratteristiche sono quelle di essere un esterno Dove la sua arma migliore è il ribbing A cui piace puntare l'uomo E poi andare in confusione O creare assisti per i compagni Queste sono le caratteristiche per le quali abbiamo fatto Ho questa acquisizione, ripeto, a titolo definitivo Con un contratto lungo Perché crediamo che già Io le chiamo potenzialità Perché si tratta di un 2001 Ma sono sicuro che la MEC dimostrerà Che sono già qualità acquisita Capace di riscaldare i tifosi Capace di riscaldare voi Capace anche di essere importante E la squadra